Per imparare a conoscere i beni culturali siciliani non ci sono solo le visite guidate e le guide famose. La nuova frontiera del turismo culturale punta all'innovazione e mette insieme informazioni classiche con le tecnologie del videogioco. Un videogioco appunto per conoscere e riconoscere i beni culturali siciliani. Si chiama Sicily History e sembra essere questa la nuova frontiera del turismo culturale, che punta sull'innovazione e la digitalizzazione. Questa è l'idea di 5 giovani catanesi che hanno un'età compresa tra i 24 e i 41 anni e che hanno concretizzato nella realizzazione di un'app di pubblica utilità. L'applicazione si chiama appunto Sicily History ed è una costola di un'omonima start-up nata due anni fa per la fruizione dei beni culturali siciliani. Gli ideatori sono Riccardo Bonina, Luna Meli, Angelo Mangano, Luca Pappalardo e Giuseppe Sapienza. La società è stata premiata con un finanziamento del Ministero dei beni culturali e del turismo nell'ambito della PON Cultura e Sviluppo per creare l'applicazione mobile la quale, lanciata il 26 luglio scorso per Android e iOS, è stata scaricata già da 1300 persone.